Posizione mangiare. Io stasera sono combattuto. Sei combattuto? Sì. Non devi combattere troppo. Stasera non so se mangiare. Mamma mia che cos'è? La trippa. Quarume. Mamma mia. A bicecca. Mamma ragazzi vi piace? Il mio no. È meraviglioso. Completamente. È come la chitta che ci buttasse a Sandro. Esatto. Mamma mia. Mamma mia. Mi ricordo. No no ragazzi. Io passo avanti. Stasera ho i cacciofi fritti ragazzi. Guardate che meraviglia. Guardate. Aspettatevi. Con questa cosa gli animali. Guardate. Belli fritti. Ora io mi... Come si dice? Mi scucchio? Mi... Come si dice? Mi scucchio quando la fai rasta. Ma come si dice? Mi mangio. Vabbè me li mangio ragazzi. E poi che mi è preparato? Mamma mia. Mamma mia. Ma chi so magari per fare bella pasta? Domani. Ah domani la fai con questa? Ovvio. Guardate ragazzi. Sedano non ti piace? No. Non mi la risedano a mia. Salsiccia non ne vuoi? No no. Solo la carne a pezzi. La salsiccia quella? Quella grossa? Si ma è quella del finocchetto. No. Ne voglio qua il finocchetto. Basta. Non me ne dare più per ora. Va bene così. Guardate ragazzi. Va bene io mi accontento di questo stasera. Buona cena. Io Mario. Questa bella bisecca. Questa sera una cena un poco pesantuccia. Ma infatti leggera devo dire. Va bene ragazzi. Coca Cola per digerire. Tra poco Maria De Filippi. Canale 5. E noi ci siamo. Vi abbandoniamo per oggi. Amo. Ma ci vediamo domani. Ci vediamo domani. I.